Buonasera a tutti voi telespettatori di Teleclub Italia, benvenuti in questo spazio autogestito. Questa sera protagonista sarà il comune di Calvizzano, infatti passo subito a presentarvi il primo cittadino del comune di Calvizzano, il dottor Giuseppe Salatiello. Buonasera Sindaco. Buonasera. Dunque Sindaco, lei si è insediato il giorno 6 giugno 2013, sono passati 7 mesi, 6 mesi effettivi. Quali sono i punti sui quali il comune sta lavorando? Che cosa ha prodotto questa amministrazione? Innanzitutto buonasera a tutti i cittadini calvizzanese perché è uno spazio autogestito che prometto di ripetere mensilmente ogni 40 giorni. Che cosa ha fatto in 7 mesi? Innanzitutto devo ringraziare i cittadini per coloro che hanno creduto in me, questo è il primo appuntamento dopo la campagna elettorale televisiva che faccio con i telespettatori. Li ringrazio quindi per avermi dato fiducia, adesso questa fiducia deve essere ricambiata ai cittadini attraverso l'attuazione del programma politico. Che cosa è stato fatto in 7 mesi? In 7 mesi sono stati presi dei provvedimenti sia di attività normative, sia per quanto riguarda tributari, sia per quanto riguarda amministrative. Per quanto riguarda le attività normative che l'amministrazione ha portato avanti, sono attività che si rivolgono soprattutto ai regolamenti comunali, regolamenti comunali che sono di una notevole importanza, anche perché attraverso il regolamento si snellisce l'azione amministrativa e il comune di Calvizzano aveva bisogno di essere al centro della scena di questi regolamenti per snellire l'azione amministrativa. I regolamenti che abbiamo preso in considerazione sono il regolamento del trasporto scolastico, del trasporto locale per gli anziani, il regolamento della mensa scolastica, il regolamento dei lavori in economia, un regolamento molto importante perché in effetti prima si poteva arrivare ad un'efficienza dei lavori fino ai 12 mila Euro, noi ci siamo adeguati con la normativa nazionale fino ai 40 mila Euro, questo perché produce un snellimento nell'azione amministrativa. E' un altro regolamento molto importante che è stato portato avanti per quanto riguarda l'installazione delle antenne, per quanto riguarda le antenne della telefonia mobile, che c'è stato anche un momento particolare di tensione locale, laddove mi sono unita alla cittadinanza, ho sposato l'idea e ho messo un'ordinanza di blocco sul territorio per quanto riguarda l'installazione di queste antenne. Ma al di là poi è stato preso un provvedimento importante, quello della riorganizzazione della macchina comunale, una riorganizzazione che vede sia una nuova organizzazione da un punto di vista proprio di uffici, di disposizione degli uffici, infatti come più volte accennato l'ufficio del comando vigili andrà alle cooperative, verrà liberato lo spazio per un nuovo ufficio anagrafe, un front office che sia più dinamico per la cittadinanza in modo che i cittadini arrivano al comune di Calvizzano nello spazio antistante dove è opposto un divieto per tutti i dipendenti, per i politici locali, per lo stesso sindaco che non possono sostare la macchina nello spazio antistante, ma perché quello spazio serve per il cittadino, serve per il cittadino anziano che arriva e che quindi deve poter fare il documento, quindi l'abbattimento diciamo così delle barriere. Questa è importante, questa prima localizzazione che abbiamo fatto perché finalmente il cittadino calvizianese senza perditempo potrà portarsi all'ufficio anagrafe e quindi averlo a portata di mano. Ma al di là di questo c'è una nuova organizzazione all'interno della macchina comunale perché vede nel complesso una rotazione dei funzionari. Che cosa significa? Significa che in effetti l'ufficio tributi sarà accorpato con l'ufficio ragioneria e avrà un unico responsabile che è il ragioniere sabatino. Questo perché perché diciamo così tendiamo a mettere tutto il settore economico finanziario in un'area e anche per uno spirito di dotazione. I tributi saranno affrontati in un modo diverso, più celere, ci sarà un responsabile per ogni tributo in modo che il cittadino nel momento che si porta alla casa comunale sa con chi interfacciarsi, quindi è un modo più dinamico, più snello di affrontare la realtà quotidiana dei cittadini. Un altro provvedimento che è stato preso in Consiglio Comunale che è di una notevole importanza è che noi abbiamo un problema a Calvizzano che da dieci anni coloro che devono avere un'autorizzazione per quanto riguarda mori di cinta o costruzione o sottotetti, soprattutto i sottotetti, per quanto concerne zone vincolate, mi riferisco alle zone nella prossimità dell'Aubio dei Camaldoni e sono soggetti ad una commissione. Questa commissione non si riunisce da circa dieci anni, cioè c'è un'attesa lunghissima. Io ho cambiato totalmente questa commissione, non è più un carrozzone fatto da 15 componenti, è molto più snella, viene chiamata commissione locale per il paesaggio, è composto da 5 componenti, partiranno gli avvisi in questi giorni per selezionare i professionisti in modo che può essere efficiente al massimo. E' efficiente perché nel momento che loro non prendono partecipazione a più di due sedute automaticamente sono revocati. Quindi si porta avanti l'efficienza della macchina amministrativa, bisogna dare risposta al cittadino e il cittadino non può aspettare tanto tempo per avere poi un proprio diritto. Questa per quanto riguarda la problematica da un punto di vista normativo, le norme che un comune si deve dotare per poi affrontare il programma politico. Per quanto riguarda invece l'attività tributaria, mi riferisco ai tributi, per quanto riguarda l'acqua, per quanto riguarda la Tarsu, per quanto riguarda l'Imo, l'ICO, come poi verrà chiamato, si è chiamata nel passato. Io voglio precisare che in effetti tutte le aliquote che noi abbiamo trovate erano già state redatte, già fatte precedentemente, ma un punto particolare lo spenderei per quanto riguarda la Tarsu, che è la tassa di rifiuti, per quanto riguarda l'Imo, o se meglio vogliamo dire la mini-Imo, che è il 24 gennaio poi, è per dare un'informazione in più. Per quanto riguarda la Tarsu, l'amministrazione comunale si è battuta affinché non ci fossero degli aumenti. Penso che i cittadini calvizzanesi hanno comunque, e sono stati attenti alle vicende nazionali, per quanto riguarda anche questa impennata della tassa dei rifiuti, addirittura in qualche comune si è raddoppiata o triplicata. Io ho invece adottato un sistema di freno alla Tarsu, nel senso che ho inviato a casa dei cittadini anche una mia informativa in bolletta dicendo che lo 030 appartiene allo Stato, cioè va versato direttamente alle casse dello Stato, a Roma con l'F24. Diversamente invece è andata la parte dei commercianti, però per quanto concerne i commercianti la produzione che si fa a Calvizzano che invece hanno avuto un aumento. Quindi ho fatto una scelta in quel momento, salvare e salvaguardare i 4 mila nuclei familiari, quindi calmerare e mantenere frenato la Tarsu rispetto invece a questi elementi di produzione. Io voglio rassicurare anche coloro che esplicano servizi e produzione a Calvizzano che comunque sarà oggetto di censimento commerciale in modo che le nuove tariffe saranno calmirate, le nuove tariffe quelle che andranno a fare col bilancio di presa nel 2014. Come? È un impegno che poi uno si è preso con i cittadini anche in campagna elettorale. Noi stiamo per quanto riguarda la tariffa della Tarsu a 3 euro al metro quadro. L'impegno dell'amministrazione che si è preso in campagna elettorale, il mio personale, non solo è quello che quest'anno abbiamo frenato, ma di scendere gradualmente, come fu la mia promessa in campagna elettorale, quella di togliere i box auto per quanto riguarda dalla tassazione. Questo è un impegno che porterò sicuramente avanti e che già si dovranno comunque iniziare a vedere i primi risultati con il bilancio previsionale del 2014. Invece qualcosa in più bisogna dire per l'Imu, come noi sappiamo, è importante che i cittadini ascoltino con attenzione questo passaggio. L'Imu come noi sappiamo è stata istituita nel 2012, prima il 2011 si chiama la ICI, poi nel 2012 istituiscono l'Imu. Nel momento che viene istituita l'Imu il governo centrale fissa delle aliquote che la prima abitazione è al 4 per mille, mentre per tutte le altre al 7,1 per mille. I comuni potevano avere, avevano la facoltà di poter aumentare fino a tre punti l'Imu. A Calvizzano, con due atti di deliberazione, perché ci tengo a farli conoscere alla cittadinanza e poi possono ripetere i documenti anche al Comune, con la deliberazione numero 2 del 31 ottobre 2012, il commissario prefettizio stabiliva l'aliquota per l'Imu per la prima casa dal 4 per mille al 5.5 per mille, quindi aumentava di 1,5 per mille l'aliquota. Lo stesso commissario prefettizio con la delibera numero 14 del 15 aprile del 2013, quindi a due mesi dalla elezione che c'è stata del 27 maggio, fissava e confermava sempre al 5,5 per mille l'aliquota per la prima abitazione. Quindi a questo punto noi avevamo delle aliquote fissate e che sono valide per l'anno 2013. Quindi che cosa succede? Succede che poi a un certo punto, come noi sappiamo, Berlusconi, la politica nazionale, si era tanto detto che comunque bisognava eliminare l'Imu per quanto riguarda la prima casa. C'è stato poi il governo dell'argentese, hanno concretizzato questa eliminazione dell'Imu della prima casa, ma il governo ha eliminato il 4 per mille, cioè l'aliquota che aveva fissato tutta la differenza e quindi nel caso del Comune di Caldizzano dell'1,5 per mille, doveva invece essere corrisposta. Quindi a questo punto che cosa si andrà a pagare? Sulla differenza dell'1,5 per mille il cittadino andrà a pagare il 40%. Quindi con questo che cosa voglio dire ai cittadini? Voglio dire che queste aliquote erano state fissate dagli atti che esibiscono e che poi sono riteribili, come ho detto, dal sito o venire direttamente in casa comunale, erano state fissate dal commissario prefettizio. Quindi al di là non è che voglio scaricare colpo meno, ma sono delle aliquote fissate già per il 2013. Spero che il 2014 non ci sarà proprio, ma anche qualche indicazione a livello governativo che poi noi comunque siamo un ente sottoordinato e che quindi dobbiamo comunque prendere in considerazione. Ma c'è una lotta che noi faremo nei confronti proprio per quanto riguarda la situazione tributaria e la pressione tributaria. Il mio obiettivo è uno, quello che voglio dire ai cittadini. Io a partire dal 2014 ad andare al 2017, nel momento del mio mandato elettorale, anno per anno loro riceveranno a casa le aliquote abbassate di qualsiasi tipo di tributo. Come pure, la mia lotta iniziale sarà quella che ho promesso per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, che non è possibile che il Comune di Calvizzano ha una liquota allo 0,8 per mille. Questo è l'impegno che noi abbiamo detto in campagna dell'Italia e che stiamo lavorando. Infatti già il primo risultato dalla Tassu rispetto a tutti gli altri comuni. Infatti basta guardare gli amici paesani dei paesi accanto, come Giuliano e gli altri. A Giuliano impazzano le polemiche come tutti quanti possiamo vedere sotto gli occhi di tutti. Tares, Tarsu, insomma, tantissime sono le polemiche che si stanno sentendo da questo punto di vista. A Calvizzano il 24. Per passare invece poi da queste attività tributarie che poi mi vedranno, diciamo così, impegnato con l'amministrazione, con il un escursus soprattutto sull'azione amministrativa che il Consiglio e che soprattutto anche la Giunta hanno fatto e hanno realizzato. Infatti innanzitutto voglio ringraziare tutti i giovani neoletti nella lista e che quindi sono presenti al Comune. Molti hanno deleghe di primo livello nel senso, tra virgolette, perché sono chiamati assessori, ma ci sono anche i consiglieri delegati e che quindi per me sono tutti sullo stesso livello. Viene dato l'impegno, loro lo portano egregiamente avanti. Infatti questa amministrazione è stata chiamata immediatamente per provare, diciamo così, le capacità, l'esperienza all'inizio di settembre, perché noi all'inizio di settembre ci siamo trovati le scuole, con l'apertura delle scuole e in questo momento vorrei ringraziare soprattutto il sostegno dato all'amministrazione dall'assessore Ferrigno Maria Luisa, una donna, una ragazza capace, caparbia e che comunque subito è entrata nel circuito e ha saputo comunque cogliere gli obiettivi, gli obiettivi e che quindi ha portato un'efficienza e un'economicità, bisogna dirla anche l'economicità, al Comune e ai cittadini di Calvizzanisi. Entrando nello specifico, che cosa sta facendo il Comune di Calvizzano sul versante scuola? Sul versante scuola che cosa ha fatto e che cosa sta facendo? Ho detto che appena si è insediato anche l'assessore, subito l'amministrazione tutta intera, ci siamo preoccupati di scongiurare il vecchio modo di fare politica. Qual era il vecchio modo di fare politica? Iniziano le scuole il 15 settembre, già la fornitura dei libri arriva il primo di gennaio, oppure ancora di più la menza scolastica inizia il 10 gennaio, o ancora peggio i caloriferi, cioè il riscaldamento scolastico inizia in effetti a gennaio, febbraio, cosa che già sono successe e capitate nella nostra realtà locale. Invece l'amministrazione è stata pronta immediata perché con capacità e con sinergia l'assessorato alla pubblica istruzione è riuscita immediatamente a fornire il primo ottobre i libri scolastici a tutte le scuole elementari. Questo è un risultato eccellente perché un giovane assessore che si è insediato immediatamente è riuscito a portare un risultato del genere, ma non solo questo, è riuscito a portare anche un risparmio economico per l'ente, quindi per i cittadini calvizzanesi, quindi abbiamo efficienza ed economica, ma allo stesso modo si è mosso per la menza scolastica perché il primo di ottobre non si era mai verificato che a Calvizzano iniziava la menza scolastica, lo stesso dicasi per il riscaldamento, quindi queste sono piccole cose, ma sono grosse nel senso tra virgolette perché testimoniano l'efficienza di un'amministrazione, quindi su questo realmente l'amministrazione è stata pronta, che cosa sarà fatto per il futuro? L'assessore della pubblica istruzione gliel'abbiamo chiesto, presenterà stesso lei un programma in bilancio di previsione che lei me ne ha parlato l'altro giorno, quale quello di un servizio pre e post scuola, che significa un servizio pre e post scuola? Nel senso che se ci sono cittadini che hanno difficoltà per l'orario di inizio scolastico che è alle 8 del mattino e vogliono anticipare o posticipare di mezz'ora ci saranno delle assistenti, dei volontari predisposti e messi dal comune in modo che possano accogliere questi bambini. Questo è sempre nell'ottica e nello spirito di avvantaggiare, di dare spunto alle famiglie e di potersi organizzare perché ci sono tanti gli impegni. Ma un altro elemento che l'assessore della pubblica istruzione ha fatto e che è notevole è stato quello per quanto concerne la pitturazione di tutte le scuole elementari e medie, cioè si è organizzata con una squadra di manutenzione di lavoratori socialmente utili che ringrazio, ringrazio perché hanno collaborato e stanno collaborando attivamente con l'assessorato e con gli altri assessori affinché realmente loro riescano a portare avanti. Sono state pitturate totalmente tutte le aule, così come mi ha promesso l'assessore sarà fatto ogni anno, cioè ogni anno ne avremo l'inizio scolastico con sui banchi la fornitura di libri scolastici, così come la mensa e così anche la pitturazione. Che cosa sta ancora facendo per la struttura delle scuole? Lei ha puntato soprattutto per quanto riguarda la scuola materna che mi diceva e mi parlava l'altro giorno di una situazione di accoglienza delle mamme, cioè non solo si pensa al bambino, alla ripavimentazione di tutta la scuola materna che è necessaria e necessita l'intervento, ma per quanto anche pensa all'accoglienza della mamma, cioè nella mamma che si porta per accompagnare il bambino o a prendere il bambino deve essere stare in un ambiente che comunque è consono, che comunque è un ambiente sicuro e un ambiente di qualità. Quindi questo io ringrazio non solo l'assessore ma anche gli altri assessori per questo intervento. Come pure molto si è fatto per far sì che potesse andare avanti il trasporto, prima il trasporto scolastico per quanto riguarda che stanno approvando il regolamento e che quindi sarà fatto il trasporto scolastico, ma soprattutto anche l'altro consigliere Trinchillo, il giovane Trinchillo che si è impegnato notevolmente per quanto riguarda il trasporto locale. Che cosa mi piace di questa amministrazione? Che cosa mi piace dei cittadini calvizzani? È un'amministrazione che parla con i cittadini, nel senso che questi giovani e meno giovani consigliati dai meno giovani, che comunque è la struttura portante dell'amministrazione, loro si espongono, loro mettono la faccia, loro scendono tra i cittadini, mettono il gazebo, mettono i cartelloni, hanno delle iniziative, chiedono delle manifestazioni di interesse per gli interventi da farsi, fanno partecipare la cittadinanza come è nato per il trasporto locale. Io sono stato chiaro con il consigliere Trinchillo, ho detto guarda che noi in effetti dobbiamo comunque poi sacrificarci economicamente per fare questo trasporto, trasporto locale per gli anziani che cosa significa? È un trasporto che da Calvizzano dovrebbe accompagnare i cittadini, gli anziani soprattutto presso l'azienda sanitaria locale che è Villa Ricca, perché è una zona mal collegata e quindi di conseguenza si è pensato di istituire questo servizio. Il delegato si è impegnato, è sceso in piazza, ha fatto diciamo così sua l'iniziativa coinvolgendo la maggior parte dei cittadini con una manifestazione di interesse, tanto è vero che è arrivato in posizione comunale e abbiamo approvato il regolamento. Questo è di una notevole importanza e questi giovani che stanno dando la loro è notevole come anche per quanto riguarda le attività natalizie se ne vogliamo parlare, è stato un momento conviviale di tutta la cittadinanza dell'altro delegato Trinchillo Marilena, l'altro precedente Trinchillo Vincenzo, anche Trinchillo Marilena ha dato il suo, lei ha organizzato tutto il programma e quindi ci sono stati degli eventi che sono piaciuti o meno ma che comunque è stato coinvolto all'intera cittadinanza e in un momento di crisi particolare il Comune doveva offrire alla cittadinanza un momento di svago. L'ha fatto, l'ha fatto egregiamente coinvolgendo anche tanto l'azione cattolica, la stessa Chiesa che comunque è stata coinvolta e che è andata bene perché con un'idea originale e nuova del mercantino natalizie, di certi altri incontri che ci sono stati, di Peppino Di Capri all'interno della Chiesa e altri interventi che ora non mi ricordo perché ha fatto tutto il consigliere delegato, però dico che sono rimasti contenti, i cittadini, i bambini hanno preso vita e hanno partecipato perché sono dei momenti particolari al di là di chi è che possa dire poi c'è uno sperpero o meno, è un momento che il Comune si deve far avanti, non ritengo opportuno coinvolgere anche i commercianti o viceversa perché già stanno in una situazione particolare quindi il Comune poteva in quel momento e bene ha fatto ad organizzare questa manifestazione che è un momento di relazione. Ma al di là di questi aspetti… Una politica incentrata quindi sull'inclusione sociale, sull'aiuto agli ultimi, diciamo come lei ha detto di sovente in campagna elettorale. Sì, prima di affrontare perché il mio e tutti i consiglieri che hanno creduto, i candidati che hanno creduto nel progetto politico e quindi prima di affrontare anche questo momento degli ultimi che io poi me lo sono sentito in primis, io farei anche un passo sulle altre cose che è stato fatto, noi abbiamo trovato un Comune che in effetti dico difficile inquadrarlo nel senso che il cittadino calvizianese ormai era sfiduciato, non c'era un punto di riferimento, non c'è la politica, quindi un Comune astratto. Noi siamo partiti e con la forza di tutti gli altri consiglieri e gli assessori abbiamo cercato di rimettere i conti in ordine perché nel momento che si va al Comune si devono rimettere i conti in ordine. È un Comune che da una, diciamo così, cattiva credibilità che aveva da un punto di vista economico, oggi grazie a questi sforzi, a queste manovre e soprattutto alle transazioni, cioè noi siamo stati capaci di transiggere con ditte che in effetti loro vantavano crediti nei confronti del Comune di Calvizzano per debiti che le amministrazioni precedenti avevano accumulato non pagando tempestivamente le ditte. Noi abbiamo operato una serie di transazioni e abbiamo apportato un risparmio per l'ente di circa un milione di Euro, è una cifra considerevole, io voglio infatti rassicurare i cittadini di Calvizzano che stiamo sulla buona via, sulla ultima transazione che ho da fare con l'Eniacqua, non abbiamo difficoltà, è un Comune che in effetti è vivo, è attivo e che può affrontare qualsiasi tipo di impegno, anche per quanto riguarda la situazione di un impegno del sociale, che poi mi voglio sofformare dopo a parlare molto del sociale, ma altri interventi che sono stati fatti e che meritano un'attenzione perché è stato un impegno preso dell'amministrazione, ma soprattutto una rinuncia dell'amministrazione ad altre cose, è quello dell'anticipazione per i fitti del 2006. Noi come dovete sapere cari cittadini che solo i cittadini di Calvizzano dal 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 non hanno percepito quelle indemnità di fitto che la regione Campania mette a disposizione, se il cittadino di Calvizzano parla col cittadino di Qualiano o di Villaricco o di Marano, loro hanno già preso il contributo 2011, i nostri, quelli del 2006 non l'hanno e non le avevano ancora percepiti. L'amministrazione ha fatto un discorso, quello di anticipare una somma, anticipato il 50% agli avventi diritti della graduatoria del 2006, si è rimboccata le maniche e ha lavorato tanto per quanto riguarda la predisposizione delle graduatorie perché neanche quelle erano state redatte e fatte dalle amministrazioni precedenti del 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Quindi questi sono impegni che uno si prende, si è preso e che l'intera amministrazione sta portando avanti e sono aspetti fondamentali, sembra un poco, però sono tanto perché in effetti è un'amministrazione che fa sacrifici su altre cose per accontentare poi il cittadino che continuamente, giustamente vuole un diritto suo, quello che è un ente che non è capace di soddisfare. Quindi noto un'incapacità che c'è stata precedentemente e che oggi bisogna cambiare, c'è più esperienza, bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare, lavorare per il cittadino soprattutto e tendenzialmente per il cittadino. Quando dico lavorare per il cittadino bisogna comunque darci delle risposte, delle risposte concrete. È inutile che io nel programma politico ho detto faccio il PUC nel 2014 e non mi impegno per farlo. Io devo impegnarmi, infatti anche i cittadini devono sapere che la proposta di PUC che era stata ridatta dalla passata amministrazione e carta stracci, cioè noi azzereremo tra poco questo PUC insieme alla nomina di tecnici del piano regolatore, anche loro andanno in soffitta, perché è un piano regolatore che può essere soddisfatto all'interno del comune di Calvizzano e sarà un piano regolatore con tante sorprese, soprattutto perché saranno cancellate tutte le lottizzazioni che fino ad oggi erano state ascritte all'interno del documento proposto, perché Calvizzano merita di farsi la casa, tra virgolette, perché tanti pensano alla casa e quindi mi esprimo su questo concetto solo coloro che in effetti vivono Calvizzano, non i latifondisti, non i proprietari che abitano altruove e che in effetti hanno in eredità 50, 30 o 40 mila. Questi soggetti a questa amministrazione non interessano, interessa il cittadino calvizzanese, il cittadino che vive Calvizzano, il cittadino che ha bisogno che il figlio possa realizzare un proprio sogno, l'abitazione sul proprio territorio per continuare a vivere Calvizzano, per continuare ad arricchire la comunità calvizzanese, quindi non permetteremo assolutamente delle altre situazioni. Certamente c'è un gioco che si va a condurre e che è molto bello per quanto riguarda gli interessi pubblici, io ad esempio ho dettato degli indirizzi, mi piacerebbe tantissimo vedere una pista ciclabile, dove farla? Nelle zone vincolate, nelle zone a ridosso dell'alvio, nelle zone di quei 150 metri che in effetti sono vincolati e che quindi è un terreno che deve essere riattivato naturalmente in questa forma. Queste sono le cose che a me piacciono e mi piace parlare, inutile dire abbiamo istituito l'informa giovane, che comunque abbiamo dato spazio a 5 professionisti di esprimersi, di relazionarsi, che stanno lavorando benissimo al comune di Calvizzano, che stanno facendo dei progetti affinché possono avvicinarci con l'Europa, attraverso le nostre scuole, con i giovani europei. Questo verrà, verrà non meno. Stanno implementando l'implementazione dei gemellaggi europei? Infatti abbiamo chiesto per quanto riguarda la situazione di Bruxelles e lei ne sa qualcosa, lei è laureata in relazioni internazionali, quindi per quanto riguarda l'Europa. Quindi un grosso servizio per i giovani, per chi si vuole informare, ecco per chi ha bisogno di reperire informazioni e anche opportunità. Il comune di Calvizzano ha attivato quindi lo sportello in forma giovani. Sì, lo sportello in forma giovani che è utile, serve e sta dando i propri frutti. Ma la politica che però ci siamo preoccupati, appena ci siamo insediati ci siamo rivolti molto al sociale. Sociale infatti abbiamo immediatamente cambiato la convinzione che c'era con l'istituto del Buon Consiglio, della Madonna di Buon Consiglio al comune di Calvizzano. Il comune di Calvizzano, questo è sociale, quindi l'assessorato Agliata e tutti gli altri che stanno contribuendo. Io chiedo scusa anche ai colleghi, dimentico qualche impegno che c'è stato da parte degli altri oppure qualche cosa che già è stata realizzata. Quella è stata una convenzione che ho voluto io particolarmente, perché nel momento che mi sono insediato, sempre, io ho trovato ragazzi che erano assistiti, bambini che erano assistiti alla Madonna del Buon Consiglio, che poi è l'orfanotrofio di Via di Tiro che noi abbiamo, il vecchio orfanotrofio del convento di Via di Tiro e che in effetti questi bambini però loro non potevano, era fuori convenzione, cioè loro non avevano né la mensa né il vestiario e per di più loro non potevano partecipare al campo estivo che le scuole organizzano. Io dico ma non è possibile che se noi un bambino ha bisogno di essere integrato in una struttura del genere per diverse problematiche, noi non ottemperiamo anche questo. Ho cambiato la convenzione, l'ho fatta soprattutto anche per dare un aiuto all'istituto religioso che sono suori che in effetti la struttura è dell'IPAB e del comune, ma che loro rischiavano di poter andare via. un qualcosa che appartiene al nostro DNA locale, qualcosa di storico che comunque noi non possiamo permettergli, che loro in effetti possono lasciare perché sconfitte. Dobbiamo aiutare loro, aiutiamo i bambini e diamo un servizio in più. Quindi è molto ma molto sul sociale, però sul sociale riterrei opportuno una situazione perché da sette mesi che mi sono insediato al comune di Calvizzano, io ho guardato troppo di loro in faccia, troppi cittadini ascoltati e non vi nascondo, ho guardato in faccia e ho visto in loro gli occhi la fame. C'è troppa difficoltà. Oggi è un momento particolare, c'è una crisi economica in atto forte che ha preso un po' tutti. Sindaco, lei nel suo programma di 16 punti ha enunciato al punto 8 la lotta alla disoccupazione. Il comune di Calvizzano ha introdotto il servizio civico 2014, ecco questo è il punto che vorrei sottolineare con lei. Ci parli del servizio civico 2014, come si fa per partecipare, che cosa offre? Sì, innanzitutto io chiedo scusa perché è appunto l'appuntamento del servizio civico, però volevo fare un piccolo escursus, poi avremo modo di incontrarci su tanti temi e quindi di discutere insieme alla cittadinanza perché è un'amministrazione che parla e deve parlare. Dicevo che in sette mesi ho incontrato tantissima gente, a me piace molto ascoltare, ricevo e qualche volta non posso ricevere, chiedo scusa anche a coloro che in effetti hanno aspettato in vano, ma ci sono anche gli assessori a disposizione. Ma dicevo quello che mi ha colpito particolarmente che la crisi si sente, ho guardato in faccia, stavo dicendo ai miei cittadini, ai miei coetani, ai miei amici, perché io sono locale, sono calvizzanese, che realmente ho visto le difficoltà, ho guardato in faccia la fame. Che significa la fame? La fame significa che oggi si va a delineare una nuova povertà, ma chi sono i nuovi poveri? I nuovi poveri siamo noi, siamo il vicino della porta accanto, il vicino della porta accanto che ha perso il lavoro o forse non l'ha mai avuto, è il vicino della porta a fianco che la moglie riesce a fare qualcosa o forse saltuariamente, che ci sono due bambini, quindi c'è una famiglia, c'è un occhio familiare, è l'anziano che in effetti non ha ancora la pensione sociale e il ragazzo che si sente spaisato e quindi entra in un circolo vizioso. Questi sono i nuovi poveri, ne sono abbastanza e ne sono tanti. Il comune di Calvizzano attraverso un servizio civico che ci crede fermamente cerca di porre rimedio, di porre un freno a questo momento di sbando della società locale. Vuole offrire una possibilità, un'occasione, un assegno mensile, ma non vuole dare, come noi l'abbiamo sempre precisato in campagna elettorale, non vuole portare il pacco di pasta a casa del cittadino, non vuole dare i soldi al cittadino per pagare l'energia elettrica o per andare a fare acquisti di prima necessità. L'amministrazione si è data un impegno, quella di dare dignità ai propri cittadini, dignità ai propri coetanei, dignità ai propri fratelli, perché in effetti bisogna dare dignità alle persone, quindi offrire un'occupazione momentanea di quattro mesi in modo che possa dare volano e possa far sfruttare anche a chi è che esercita poi come operatore questo servizio un momento occasionale di potersi relazionare. Quindi che cos'è? Quindi non è mera assistenza ma un'opportunità. Non è mera assistenza ma è un'opportunità perché si punta all'inclusione sociale nel momento che bisogna attirare i nostri amici, quindi la maggior parte di coloro che stanno in queste precarie condizioni economiche che non ce la fanno ad assicurare ai propri figli i generi di prima necessità. Noi dobbiamo intervenire, noi siamo intervenuti, intervenuti col servizio civico, ci crediamo fortemente e quindi è ancora un ulteriore impegno dell'amministrazione che guarda al sociale, un'amministrazione che fa un sacrificio di 180 mila Euro all'anno che destina per questo servizio. Ci crede fortemente perché solo dalla rinascita, in modo di relazionarsi e di avere lavoro e dignità può crescere una comunità. Perché poi bisogna capire il lavoro come puntarlo. Bisogna che l'amministrazione successivamente faccia uno sforzo in più, quale? Quello di attirare e attrarre i capitali all'interno del proprio paese perché abbiamo le potenzialità per correrlo fare e quindi ci portiamo anche noi sul mercato per poter cercare di fare produzione. Quindi questo è l'impegno. Che cosa faranno questi giovani? Quali sono i servizi? I servizi sono quelli di aiuto domestico, sono servizi di vigilanza scolastica e quindi io ho cercato di invertire la tendenza, nel senso che fuori alle scuole noi avremo questi operatori del servizio civico e non più i nonni civici. Avremo questi soggetti, cioè quelli nuovi poveri che io identifico, coloro che hanno famiglia, coloro che hanno bambini, coloro che necessita di prendere quell'assegno familiare, di espletare quel servizio per la comunità in modo anche che possa comunque dare questi geni di prima necessità ai propri cari. Questo è un impegno forte. A chi è rivolto? È rivolto ai destinatari dai 18 ai 65 anni che hanno un ISEE fino a 5.000 euro. Il tetto è così basso perché è su quello che noi puntiamo di capire, ma vuole essere anche da parte nostra e da parte mia soprattutto un'indagine statistica, di capire il Comune di Calvizzano da un punto di vista occupazionale o da un punto di vista di livello economico come immesso. Io mi aspetto una grossa partecipazione, anche perché è un servizio fatto bene, è un servizio che poi può, e questo stiamo studiando la forma con l'amministrazione e con l'aggiunta, come cercare di attuare un'eventuale qualifica da darla alla fine del corso. Stiamo in sintonia con un istituto locale, un istituto del Comune di Villaricca che ha dato una grande disponibilità al Comune di Calvizzano, l'istituto Sturzo, per cercare di vedere, di qualificare questi soggetti che intervengono. Che cosa significa? Che il soggetto partecipa al servizio civico, esplete quattro mesi, quattro mesi fa quindi tiroscino pratico, teorico lo mandiamo a scuola. Quindi avrà una formazione con un attestato di qualifica di OSA, di operatore socioassistenziale o qualcosa del genere, non riesco a ricordarmi la sigla, e che quindi può immettersi anche immediatamente nel mondo del lavoro. Noi quindi tentiamo... Per quante persone? A quante persone è destinato questa opportunità? Perfetto, ci sarà una graduatoria di circa 180 persone perché in ogni turno entreranno 60, quindi avremo tre turni, ogni quattro mesi 60, 60, 60. Come si svolge? Il 31 di gennaio, vi raccomando, si chiude l'iter per la presentazione della domanda e quindi lo dobbiamo presentare il 31. Che cosa bisogna dire, che cosa bisogna allegare e non allegare alla domanda? C'è stata una nota informativa dei nostri servizi sociali sul sito, ma ve lo ricordo qui, che bisogna allegare alla domanda di partecipazione, non bisogna allegare il certificato medico, non allegati, quindi non accorrenti dai vostri medici di base per fare i certificati medici, non servono, serviranno successivamente. Come pure per quanto riguarda la certificazione per il centro dell'impiego, il collegamento, anche quello può essere risolto con l'autocertificazione sul sito specificato. Ma ancora di più, già da domani mattina dalle 9 alle 12 in sala consigliare ci saranno un gruppo di due o tre ragazzi e ragazze che spiegheranno a chi è che vuole chiedere, chi ha necessità di compilare domanda, di fare documentazione, di allegare, di chiedere, chiedono ai ragazzi, i ragazzi daranno ampia disponibilità per quanto riguarda la stessura della domanda e per quanto riguarda anche i documenti da allegare, come pure sarà comunque inserito un curriculum vite, quindi anche questo sarà predisposto dai ragazzi con le informazioni che il richiedente dovrà dare. Ricordiamo che il sito internet è una fonte ufficiale, quindi si può consultare il sito internet del comune di Calvizzano per ulteriori informazioni. Anche su questo servizio civico io perché passo in rassegna i consiglieri comunali, gli assessori, grande lavoro è stato svolto sempre dall'Aggiunta che approva e dal Consiglio, ma comunque un lodevole ringraziamento va fatto anche al consigliere, al dottor Santo Paolo. Dottor Santo Paolo che è il delegato del servizio civico, che comunque insieme a tutti gli altri consiglieri, insieme all'amministrazione ha dato il proprio contributo anche da un punto di vista economico, perché loro in effetti percepiranno 6,66 Euro all'ora e che quindi senza ritenute, quindi questo è stato fatto un lavoro svolto, saranno assicurati e tutto, è stato un lavoro svolto anche dal consigliere, dal delegato Santo Paolo al servizio civico. E la durata complessiva del progetto? La durata complessiva del progetto è un anno, un anno che l'abbiamo diviso in tre quadrimestri per accontentare un poco tutti quanti e quindi queste tranche da 60 entreranno già dalle prime selezione. Per sapere l'inizio del servizio effettivamente vi ricordo i cittadini che noi il 31 termine a scade, quindi la presentazione della domanda, il 31 è di venerdì, poi abbiamo il 1 e il 2 febbraio che è sabato e domenica, immediatamente la settimana successiva, che sono quei 6-7 giorni, l'amministrazione insieme ai servizi sociali lavorerà affinché per il venerdì successivo si avrà la graduatoria finale, inizio del servizio previsto per lunedì 10 febbraio, sia per le attività di aiuto domestico, sia per quanto riguarda le attività di vigilanza scolastica. Poi possono anche partire altri progetti che noi abbiamo inserito all'interno del regolamento che sono quello per quanto riguarda la vigilanza ambientale, per quanto riguarda manutenzione, per quanto riguarda ogni altra attività di pubblico interesse che possa servire alla comunità. Saranno fatti anche dei corsi più specifici per quanto concerne la situazione di laureati, noi contiamo anche molto ai laureati per darci un senso in più. E dal punto di vista della prevenzione, so, leggo che il comune di Calvizzano è molto attivo, infatti prossimamente sarà attivo un servizio per la prevenzione dei tumori al seno? Giusto? Sì, il tumore al seno è un qualcosa di particolarmente sentito, sentito tra le donne, sentito perché molti cari sono venuti meno, coetani anche i miei sono venuti meno, per quanto riguarda sono venuti meno queste amiche, per quanto riguarda questa problematica. Quindi noi anche su questo versante vogliamo fare qualcosa in più, vogliamo dare la possibilità di uno screening, chiamiamolo in questo modo, che possa essere gratis e quindi per i cittadini calvizianesi e noi metteremo a disposizione dei locali dove abbiamo chiesto e ho chiesto io personalmente ad una persona accessa che è il professor Giuseppe Pisani dell'ospedale Pellegrini che comunque ha dato l'assenso per quanto riguarda questa collaborazione e quindi darà la sua disponibilità per quanto concerne queste visite. Un'incomiabile iniziativa insomma sulla prevenzione che è sempre molto molto importante, fondamentale per i cittadini. Dunque per quanto riguarda invece la villa comunale, c'era una situazione da chiarire, giusto? Sì, la villa comunale, allora se i cittadini stanno valutando e stanno vedendo, noi sulle cooperative stiamo realizzando l'intervento, io ho voluto cambiare totalmente il progetto, quindi i tempi, spero sicuramente intorno a settembre inaugureremo questa villa comunale che realmente oggi potrà essere chiamata villa comunale. Perché? Ho modificato il progetto, ho modificato il progetto perché c'erano degli elementi strutturali che a me non piacevano, tipo, portava una recensione del muro e invece a me non piace il muro, ma piace che comunque ci sia veduta, quindi di conseguenza il ferro di metterlo in ferriate, peraltro di curare molti altri più spazi verdi. Quindi sarà un intervento bellissimo, tra poco uscirà il progetto definitivo e quindi mi auguro che la cosa si possa concretizzare al più presto, ma sicuramente a settembre, anche perché è importante dare questo intervento ai cittadini, anche perché non c'è nessuno spazio dove potersi aggregare, dove potersi stare. Dunque complimenti al Sindaco Dottor Giuseppe Salatiello per le attività portate avanti, che ancora si stanno portando avanti per quanto riguarda insomma i 16 punti, già siamo insomma a un buon punto, riguarda la realizzazione del programma elettorale dunque. Ora io, sì, infatti lei mi chiamava su questi 16 impegni, la prima cosa poi volevo chiarire prima un aspetto e poi tornare sui 16 punti, ma proprio con un flash. Noi attuiamo il servizio civico comunale, cioè un servizio che in effetti riguarda solo ed esclusivamente il Comune di Calvizzano, quindi con un impegno economico del servizio del Comune di Calvizzano. È logico che io devo precisare ancora una cosa, che comunque noi abbiamo fatto, io ho fatto io richiesta per quanto riguarda il servizio civile che riguarda i giovani a livello nazionale e che noi abbiamo chiesto il passaggio in una classe differente, cioè dalla quarta classe alla terza classe come enti accreditati. Questo che cosa comporta? Che non saranno più 20 giovani del servizio civile che saranno presi, ma passano a 40, questo è fondamentale, poi ci saranno i progetti che noi andremo a pubblicizzare. Invece per quanto riguarda io ci tengo particolarmente nel programma e dei 16 punti che noi abbiamo indicato a tempo. di questi impegni io li devo discutere uno per uno, nel senso che a me piace discutere di un punto nel momento che l'ho realizzato. Come abbiamo fatto il punto numero 8, che è il servizio civico, che basta leggere, diciamo così, l'opuscolo che a tempo ho dato, se voi vedete è una fotografia di quello che abbiamo realizzato. Quello che abbiamo detto, quello che abbiamo realizzato, è il punto 8. Invece l'altro punto che in effetti tra poco verrà fuori, che già abbiamo approvato gli atti in Consiglio Comunale, è per quanto concerne la trasformazione del diritto di proprietà in diritto di superficie che tanto era sentito a livello degli abitanti delle cooperative. Quello abbiamo approvato il regolamento, stiamo con gli atti prodomici in itinere e quindi tra poco saranno anche chiamati i signori di coloro che si trovavano in queste condizioni per poter poi avere finalmente questo passaggio di diritto di proprietà dal comune ai singoli cittadini. Di ogni punto a me piace comunque poi affrontarlo, sviscerarlo e chiedo ai cittadini di tenere comunque il programma che io a tempo mi sono impegnato a realizzare. Questo programma che sono i 16 impegni sarà messo sul sito del comune di Calvizzano in modo che può essere sfogliato e ricordato. Quindi come l'impegno preso dell'abbassamento delle tasse per quanto riguarda la realizzazione del cimitero, per quanto riguarda la realizzazione della villa comunale, io penso che in questi 6 mesi momentaneamente abbiamo già ottemperato a due punti che sono il diritto di superficie che poi avrà la sua concretezza fra qualche mese, ma adesso che il 10 febbraio parte il servizio civico comunale è una soddisfazione per l'impegno preso di noi e dell'amministrazione, ma è una soddisfazione ancora di più perché finalmente possiamo dire che con certezza l'inizio e anche l'intero svolgimento del nostro mandato elettorale sarà rivolto con uno sguardo particolare al sociale e soprattutto agli ultimi. Quindi complimenti al Sindaco per gli impegni portati a termine per questa opportunità del servizio civile, un civico, perdonatemi, auguri per gli impegni ancora da realizzare e noi la ringraziamo e quindi la salutiamo. Grazie, grazie a tutti i cittadini Calvizzano, ci rivedremo ben presto perché ho intenzione di interloquire con i cittadini, con ogni punto del programma lo portiamo qui in trasmissione e quindi avremo modo di confrontarci con i cittadini. Grazie, grazie al Sindaco Giuseppe Salatiello per essere stato qui con noi, grazie a voi telespettatori, io vi ricordo che questo contenuto andrà in replica sabato alle ore 14 e 30 e domenica alle ore 14. Da parte mia è tutto, arrivederci.